Questo governo fa delle scelte che in molti casi sono giuste, che condividiamo su alcune altre questioni. Abbiamo delle opinioni in parte diverse. Io oggi ho detto quello che penso della Delega Lavoro e del fatto che è giustissimo estendere le tutele, universalizzare i diritti a chi non li ha, ma personalmente non avrei toccato le norme sul licenziamento, anche perché non è un articolo dello Statuto dei Lavoratori che ha 44 anni, ma ne ha due perché è stato ampiamente modificato due anni fa con la riforma Fornero.